Da segnalare purtroppo un terremoto piuttosto forte di 6.3 in California, negli Stati Uniti d'America. La parte meridionale della California, nel giorno della festa dell'indipendenza, erano da poco passate le 10.30 del mattino quando la più forte scossa di terremoto da decenni ha fatto tremare per circa 30 secondi anche i grattacieli del centro di Los Angeles. Il sisma sarebbe stato di magnitudo 6.4 della scala Richter, seguito da almeno 4 scosse di sassiestamento, è stato percepito anche però nella vicina Las Vegas in Nevada. Dalle prime informazioni raccolte, per fortuna non si registrano danni gravi o feriti. A differenza del terremoto del 1994, che creò un sacco di morti e danni per miliardi di dollari, la scossa di quest'area è stata molto profonda, almeno 8 km, sotto la superficie terrestre, come ci informano gli aspetti. Il Piacentro è una zona molto remota e non molto popolata della Sierra Nevada, a più di 200 km da Los Angeles, la città degli Angeli. La interessata sarebbe quella della Sailor Ice Valley, dove si trova la località di Ridgecrest, molto frequentata nel periodo autunnale dai amanti delle sci e dello snowboard, che si regano nelle montagne di Mammoth Lakes. Grazie a tutti, un saluto caro e al prossimo video da Leandro, un narratore italiano. Iscrivetevi, mi raccomando, commentate. Al prossimo video ancora. Iscrivetevi, mi raccomando,